Scatta il braccialetto elettronico per l'uomo che avrebbe molestato la moglie. Su delega della Procura della Repubblica, il personale del commissariato di Cava dei Tirreni nei giorni scorsi ha eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale dell'allontanamento dalla casa familiare con l'applicazione del braccialetto elettronico emessa dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti del cittadino nigeriano ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti nei confronti della moglie. L'uomo, con condotte reiterate nel tempo, caratterizzate anche da molestie anche a sfondo sessuale, minacce, violenza fisica, verbale e psicologica, induceva la donna in un perenne stato di ansia e paura. Dal momento della denuncia sporta dalla donna presso il commissariato di Cava dei Tirreni sono stati avviati immediatamente una serie di accertamenti, i quali dopo aver confermato quanto dichiarato dalla parte offesa agli inquirenti hanno condotto all'emissione del provvedimento cautelare accompagnato dal braccialetto elettronico. Come testimoniato dai fatti in questione, è massima l'attenzione di questa AG e della Polizia di Stato sui fenomeni inerenti alla cosiddetta violenza di genere.